L'Ass Invest Portogruaro, reduce da sei vittorie consecutive, affronta il Palaloviso alla collinare Fagagna. Probabilmente la scuola tecnicamente più attrezzata in questo campionato, in una partita che suona come un esame di maturità. Parta bene il Fagagna che riesce subito ad avvantaggiarsi di qualche lunghezza. Il Portogruaro resta comunque in scia grazie anche alle triple di Tesolin, 16 punti per lui a fine partita. Udinesi sempre in avanti, granata che non si arrendono e rispondono colpo su colpo ad ogni tentativo di allungo. A rientro dall'intervallo lungo sono le bombe di Battiston e De Paula a tornare a far sentire il fiato sul collo a Fagagna. All'ultimo quarto si va con i portoguaresi indietro solamente di un punto, ma a L'Ass Invest la situazione sembra sfuggire di mano quando a tre primi e trenta secondi dal termine la collinare allunga più otto. Tuttavia anche questa volta, complice anche qualche episodio favorevole, i Granata riescono a colmare il gap trascinando la sfida all'overtime dove una tripla di Battiston a 40 secondi dall'ultima sirena a scavare quel solco di 5 punti che gli Udinesi non riescono più a recuperare. È stata una partita sicuramente molto difficile contro a mio avviso la squadra più attrezzata del campionato e siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine. Dopo, grazie a qualche episodio, la partita è girata a nostro favore e questo ha fatto sì che riuscissimo nel supplementare a vincere la partita quando contava in sostanza. Sicuramente degli intenditori di basket hanno apprezzato la partita perché è stata una partita intensa, è stata una partita maschia. Abbiamo sicuramente da fare a mea culpa su tanti errori sia a livello difensivo che di canestri facili e sbagliati però in un percorso di crescita che non deve mai finire siamo sulla buona strada. Questa è la settima vittoria consecutiva? Si dice che vincere aiuta a vincere e noi speriamo di non fermarci. Andiamo avanti così, lavoriamo forte in palestra e speriamo che i risultati continuino ad arrivare. Rorai e poi c'è lo scontro al vertice con la Zanese, lì veramente si potrebbe dire qualcosa di molto importante per questo campionato. Sì, allora io preferisco parlare di una partita alla volta, adesso c'è da preparare la partita di Rorai che è una squadra ostica, da loro è sempre difficilissimo giocare perché sono bravi a metterti in difficoltà quindi noi ci concentriamo su Rorai e dopo finito Rorai penseremo ad Azzano.